Credo in Dio, un livello di ignoranza. Credo non ci sia alcun Dio, un altro livello di ignoranza. Ma Shivaratri non è un festival religioso. Ha qualcosa a che fare con la fase astronomica di questo pianeta. E abbiamo capito quali fasi del pianeta sono più vantaggiose per noi. I millennial non credono nel... Quale millennial sei tu? A quale millennio appartieni? Io non sono un millennial. Tutti continuano ad assumere identità sempre più nuove. È questo che sto dicendo. E quindi le persone della mia età? Non credono in Dio e nella religione. Quindi in che modo ma Shivaratri è rilevante per le persone della nostra età? I millennials. Non conosco altre parole. Bene. Sai, io non credo in nulla. Non solo in Dio. Non credo a nulla, incluso ai millennial. Non credo in nulla. Qualsiasi cosa vedo, cerco di percepire. Quello che percepisco, so. Quello che non percepisco, non so. Ma... Credere, non credere... E tutte queste diverse identità stanno menomando la tua capacità di percepire. Perché ogni identità dipende dalla memoria, non è così? Quindi, nel momento in cui ti identifichi con qualcosa che è radicato nella tua memoria, e tutte le identità sono radicate nella tua memoria, in un certo senso hai menomato la tua percezione. Ora, non puoi percepire. Giocherai solo con permutazioni e combinazioni delle possibilità all'interno della tua memoria. È così che si perde la percezione umana, perché hai reso la memoria più significativa dell'attenzione e dell'intelligenza nella vita umana. Quindi, la memoria non è una cosa negativa. È utile. Ma, se metti sempre le mani nella memoria, sei menomato. Abbiamo allestito un sistema in cui la memoria viene fraintesa come intelligenza. Da questo deriva la tua religione, da questo derivano le tue scritture, da questo derivano le tue tantissime norme sociali. Da questo derivano tutta una serie di cose per cui sei o confuso, oppure soffri. Quindi, il tuo genere, la tua nazionalità, la tua razza, la tua religione, ogni cosa è memoria, non è così? Quindi, stanno selettivamente abbandonando una memoria e si attaccano ad un'altra. Questo non li renderà affatto migliori. Passeranno da un tipo di ignoranza a un altro tipo di ignoranza. Credo in Dio. Un livello di ignoranza. Credo non ci sia alcun Dio. Un altro livello di ignoranza. Non voglio dire un altro livello. Poi penserai che sei a un livello di ignoranza più elevato. No. La stessa cosa. Credo che ci sia un Dio. Questa è ignoranza. Credo non ci sia alcun Dio. questo è ugualmente ignorante. Siccome hai menomato la tua percezione, devi trarre qualche conclusione e ricordartela. Tutto qui. Quindi, non continuare così. Ma shivaratri non è un festival religioso. Ha qualcosa a che fare con la fase astronomica di questo pianeta. Questo pianeta è parte di una famiglia più ampia che chiamiamo il Sistema Solare. Questo è una parte di una famiglia più ampia che chiamiamo Galassie, Cosmo, qualsiasi altro nome, ma essenzialmente non c'è nulla che accada qui in modo indipendente. Quindi, capiamo che in certi momenti, in certe posizioni, il pianeta si comporta in un certo modo e abbiamo capito quali fasi del pianeta sono le più vantaggiose per noi in questo contesto, ma a shivaratri, perché ci sono da 12 a 13 shivaratri in un anno. Ogni mese, il quattordicesimo giorno, è chiamato shivaratri, dove c'è un incremento naturale. Abbiamo identificato uno shivaratri specifico che avviene nel mese di febbraio e marzo, proprio con l'inizio della primavera nell'emisfero settentrionale. C'è un impatto significativo sul tuo corpo in quel giorno. C'è un incremento naturale delle energie. Quindi, quando c'è un tale incremento di energia, se mantieni il tuo corpo in posizione orizzontale, allora potrebbe avere un impatto negativo sul corpo. È importante che tu lo mantenghi in una postura verticale, perché il movimento naturale delle energie è in questa direzione. Se ti sdrai così, non andrà bene, quindi devi stare su. Come mantenerti su? Alcune persone vanno al bar. Sì, sì, te lo dico. Alcune persone per tutta la notte giocano a carte. Sì, queste sono tutte le cose che fanno. Alcune persone vanno a degli spettacoli serali quella notte. Lo spettacolo non finisce con lo spettacolo notturno. tre spettacoli nella notte per cui fino al mattino c'è un film che continua. Solitamente è un film devozionale, qualcosa su Shiva. Quindi, questa è un'opportunità, qualunque sia il millennio in cui sei nato. È un'opportunità che il pianeta ti sostenga, che il sistema, il sistema più ampio ti supporti affinché tu ti muova verso l'alto. Per favore, fanne uso. Non importa se appartieni al ventesimo secolo, al ventunesimo secolo o al secondo o terzo millennio. Non importa, perché, ancora una volta, sai tutto ciò solo per via della memoria. Il millennio non è una realtà esistenziale. È una realtà sociale. L'abbiamo inventata. Ci siete? È molto importante. Bisogna capirlo. Il processo spirituale significa che ti stai spostando dalla religione alla responsabilità. Penso che sia una cosa che farebbe comodo a tutti, in particolare i millennial. A loro farebbe comodo un po' di responsabilità, di sicuro. Grazie.